Pronti via, mancano diversi giocatori da una parte e dall'altra, Giambo per infortunio, non c'è lo squalificato Ferrari, poi Memusci delle Monache e Chiarella, Drudi parte dalla panchina, dunque giocano in grosso, i Gianes, poi c'è anche il rientro di Zappella, e Durzi in attacco con Clemenza e Cernigoi, Cernigoi che segnerà il primo gol con la maglia della Pescara nella Vis Pesaro, 3-4-3 Sanogo, De Respinis e Cannavò a comporre il tridente d'attacco, le assenze sono pesanti e la Vis Pesaro, soprattutto quelle di Acquadro e Gucci che è il campocannoniere della squadra marchigiana con 6 gol, tutti e due squalificati, fermati per un turno dal giudice sportivo. Qui si lamenta in grosso per un presunto fallo, buco centrale, grandestro di Cannavò, comincia così, la partita colpisce l'incrocio dei pali, Kevin Cannavò, classe 2000 ex Palermo ed Empoli, da due stagioni alla Vis Pesaro, quattro gol in questo campionato, ma subito il Pescara con questo destro a giro, stiamo per apprezzarlo, ammirarlo di Eugenio Dursi, il portiere Farroni rimane immobile al centro della sua porta, dunque viene salvato dal palo, serie di fitte su Piccinini, uno dei tre centrali della squadra guidata da Banchini, il palo dunque salva la porta del Vis Pesaro, sugli sviluppi del corner, il gol del Pescara, lo scambio tra Clemenza e Pompetti, il sinistro tagliato, il cross è una sentenza, bravissimo, Cernigoi all'altezza dell'area piccola, a farsi trovare pronto al posto giusto, nel momento giusto di testa, riesce ad infilare l'estremo difensore della Vis Pesaro, dunque nono minuto, Pescara in vantaggio per Jacopo Cernigoi, 27 anni appena compiuti, attaccante di Mantova, ex Seregno, Sametese e tante altre squadre, il primo gol in campionato con la maglia del Pescara, poi da lontanissimo il sinistro, un siluro di Pompetti, con la palla che viene respinta dalla traversa, e salva ancora, salvato ancora Farroni, ex L'Aquila dal 2016 al 2018, poi si mette in proprio Clemenza, una grande azione personale, palla in mezzo, non va a stringere sul primo palo Eugenio Dursi, che altrimenti avrebbe segnato, palla che sfila di un niente, alla sinistra della porta difesa da Farroni, poi il colpo di testa di Sacani, che è stato limitato tantissimo, annullato direi, di fatto, dai raddoppi continui sulla fascia sinistra del Pescara, grande partita di Veroli, fino a quando è rimasto in campo, cinquantesimo minuto, il tentativo operato da Lombardi, ex Teramo, di proprietà del Monza classe 2002, c'è la chiusura di ingrosso, e poi sul calcio d'angolo, c'è l'uscita di Sorrentino, senza problemi, a branca e la pallone, in presa alta, all'altezza della sua area di competenza, siamo sempre al cinquantunesimo minuto, viene chiamato in causa Lombardi, tre più attivi, serie di finte, ma il tiro centrale, non impensierisce, non può impensierire, estremo difensore della Pescara, Alessandro Sorrentino classe 2002, recupero a palla alto della Pescara, e poi lo scambio tra Clemenza e Zappella, che è stato impiegato nel frattempo da Mediano, il suo destro a freddare il portiere della Vis Pesaro Farroni, siamo nel secondo tempo al minuto 15, nel corso della ripresa, il 2 a 0 della Pescara, secondo gol con la maglia della Pescara, in campionato per Davide Zappella, e poi il palo, ma in realtà c'è anche la grande parata di Sorrentino, che va a deviare il pallone, proprio sul palo, sul colpo di testa di Cannavo, che è l'attaccante più pericoloso, di fatto, della squadra di Banchini, il cross da calcio d'angolo, battuto da Marcandella, entrato proprio in avvio di ripresa, dopo il 2 a 0, al posto di Sanogo, classe 2004, prelevato dal fanful, siamo al 79, il Pescara controlla senza problemi, l'andamento del match, due gol di vantaggio, ripetiamo i gol, le reti di Cernigoi, e poi il raddoppio di Zappella, qui sale, svetta in area piccola, proprio Cancellotti, la palla sorvola, la traversa della porta difesa da Farroni, siamo al 94, praticamente siamo ai titoli di coda, di questa partita, con il numero 4, Gavazzi, che controlla il pallone, e poi la palla che viene recuperata da Rauti, entrato in corso d'opera, non c'è più tempo, a Pesaro, Pescara batte vis Pesaro, 2 a 0, dodicesimo successo in campionato, il sesto in trasferta. ...che verranno fornite dall'Istitua. La città di Pesaro, 1898, in volta 44, disposto dall'articolo 10,3 della provincia di giustizia sportiva... Grazie.